Ben trovati alla nostra rubrica di approfondimento il fatto. Oggi parleremo di un argomento importante che riguarda la scuola e il lavoro, quindi soprattutto ragazzi stateci ad ascoltare, a sentire, lo faremo con ovviamente dei docenti qualificati ma anche con dei giovani che sono usciti e grazie appunto a questa realtà hanno trovato subito lavoro. La Fondazione ITS, Istituto Tecnologico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Moda Tessile Calzaturiero di Pescara indice infatti un bando di selezione pubblica per un massimo di 25 allievi per ciascuno dei corsi ITS di cui andremo a parlare con i nostri graditi ospiti. Alla mia destra ho la professoressa Chiara Di Bartolomeo docente ITS Moda Pescara nonché coordinatrice orientamento. Buongiorno. Buongiorno e poi il professor Roberto Sala docente ITS Moda. Buongiorno. Buon trovato anche a lei. Un ex allievo del corso modellista Gianluca Piccone che tra l'altro già ha trovato lavoro e poi ne parleremo e in videoconferenza abbiamo l'allieva del corso Sartoria 4.0 Agata. Buonavita anche la insomma ha avuto fortuna nel lavoro ma poi ne parleremo quando ci collegheremo con te. Inizierei subito dalla professoressa Chiara Di Bartolomeo. Che cosa sono gli ITS? Gli ITS sono degli istituti tecnici superiori di formazione di alta tecnologia il cui percorso formativo inizia dal subito dopo il diploma. Sono dei corsi con un indirizzo moda quelli che sono presenti qui a Pescara ma sono presenti su tutto il territorio italiano con vari indirizzi. Il nostro nello specifico quest'anno per la prima volta avvierà due corsi uno di fashion creator più indirizzato al discorso della creazione moda quindi della sbocco lavorativo come stilista, come stylist, come modellista, come cercatore di tendenza. La particolarità degli ITS è che il percorso formativo è completamente finanziato dal ministro dell'istruzione e dalle aziende partner quindi il corso è completamente gratuito, ha una durata di due anni, sono mille ore in classe di formazione e 800 in stage presso le aziende partner o anche in Erasmus. Siccome il percorso formativo è appunto un titolo di studio di diploma di quinto livello riconosciuto a livello nazionale e spendibile anche per concorsi pubblici l'obiettivo come è stato più volte spiegato anche in fase di ministero dell'istruzione ha la finalità di inserire i ragazzi al mondo del lavoro perciò gli 800 ore di stage sono una materia formativa a tutti gli effetti. Le aziende che accolgono gli studenti consentono loro di approfondire tutto il percorso formativo in modo da poter essere molto spesso inseriti entro il contesto aziendale nel quale fanno lo stage. Infatti un nostro grande successo, il nostro nel senso di ITS è anche per noi formatori che veniamo tutti dal mondo del del lavoro. Infatti questa è una quasi condizio sine qua non per essere formatori provenire dal mondo della materia della quale poi si è docenti. Io sono più di 30 anni che lavoro nel settore moda in sul territorio italiano e anche all'estero e insegno proprio specificatamente una materia inerente a quello che è stato il mio percorso lavorativo da 30 anni a tutt'oggi. E parliamo appunto di questo corso di fashion creator. Questo corso praticamente è trasversale un po' alle professionalità creative che ci sono nel contesto di un'azienda o di un ufficio creativo. Si vuole consentire ai ragazzi di esprimersi sia come stilista e quindi ci sono le materie tipo figurino, progettazione, storia della moda, ma anche di poter essere trasversali nelle aziende. Quindi l'approfondimento viene fatto anche a livello modellistico, a livello di marketing, di comunicazione, in modo che i ragazzi possano avere e sviluppare anche l'obiettivo di creare un proprio brand. Quindi non solo progettarlo, ma anche essere in grado di fare un business plan oppure di capire in che fascia di prodotto inserire la propria collezione. Quindi l'opportunità lavorativa è davvero a 360 gradi, non solo come dipendente, ma anche come nuovo piccolo imprenditore. Lei prima aveva citato un nuovo corso e cioè quello di digital graphic designer di cui parla il professor Roberto Sala che è sempre docente dell'ITS Moda Pescara. Sì, grazie. Come ha detto poco fa Chiara, noi docenti siamo per la maggior parte provenienti dal mondo del lavoro, dal mondo appunto specifico delle materie che insegniamo. Io personalmente vengo dal mondo dell'editoria, quindi nella comunicazione e nasce adesso questo nuovo corso che è dedicato al digital graphic designer, ovvero formare degli studenti affinché possano entrare nelle aziende nel settore della comunicazione, del marketing, quindi in tutta quella che è l'immagine esterna della comunicazione e la pubblicizzazione dei prodotti che verranno creati. Il corso sarà come per il fashion sarà di mille ore in aula e 800 in tirocini formativi e avremo materie che appunto vanno dal al marketing, alla progettazione grafica, alla comunicazione e al web, insomma tutto ciò che riguarda la comunicazione per l'immagine delle aziende. Ecco, mi piace ribadire che in un mondo in cui cercare lavoro e ottenere lavoro è veramente difficile, con realtà come queste è più facile. è la testimonianza da parte dell'ex allievo corso modellista Gianluca Piccone che ha una storia tutta particolare. Esatto, sì, tramite l'ITS io ho frequentato le annualità di modellista 4.0 e tramite l'ITS sono venuto a conoscenza poi delle varie aziende che sono sul territorio locale e grazie a questo istituto poi sono entrato anche all'interno di queste realtà, quindi tramite lo stage in due diverse realtà locali ho potuto approfondire tutte le materie che abbiamo trattato in classe e grazie poi all'ITS sono stato subito dopo il diploma assunto dalla D-Lon Bon Factory dove attualmente lavoro dopo tre anni dal diploma all'ITS. Diciamo che è un record con i tempi che corrono, insomma immagino ti troverai anche bene, immagino che l'ITS ti abbia dato tanto. Esatto, sì, sì, assolutamente. E allora andiamo a collegarci con un'altra allieva del corso Sartoria 4.0, Agata Bonavita. Agata noi ti vediamo tramite, non so, videoconferenza, però sappi che tu sei con noi. Per quanto riguarda la tua esperienza con l'ITS? Per me il fatto dell'ITS è stato molto esaustivo perché ti dà tanto, col fatto che appunto i professori sono comunque del settore, se c'è la volontà di imparare ti lasciano veramente tanto e le ore che appunto si fanno poi in azienda ti permette di conoscere veramente il lavoro effettivo. Io fortunatamente sono stata in questa azienda collegata appunto con la scuola, abbastanza grande che quindi mi ha permesso di valutare tutti i settori che ci sono all'interno e quindi diciamo poi specializzarmi in quello che preferivo e poi appunto alla fine di questo stage che ti offre la scuola sono rimasta lì in azienda che ho appena finito appunto la scuola ma sono già diciamo avviata in azienda. Insomma tanti ragazzi e le ragazze che devono ringraziare questa scuola. Professoressa Di Bartolomeo, ricordiamo il bando e ricordiamo anche una data fondamentale, la scadenza di questo bando. Il bando scade l'8 di ottobre, data entro la quale chiunque può iscriversi, c'è da specificare che non è necessario aver fatto un percorso formativo di diploma nel settore moda, anzi molto spesso la maggior parte degli studenti provengono da tutt'altro indirizzo, decisione presa dopo le scuole medie in maniera forse poco consapevole e la scelta di proseguire un percorso moda e con grande consapevolezza quindi con forte determinazione di essere poi inseriti nel mondo del lavoro. Ed è lì che l'ITS è la scelta di lezione perché consente non solo una formazione indirizzata al lavoro cioè noi ci teniamo a ribadirlo perché ogni docente, ognuno sa che cosa vuol dire fare quel mestiere che sta insegnando dentro l'azienda. Quindi si dà una metodologia già esecutiva, non empirica, perché attualmente le aziende cercano personale dinamico soprattutto trasversale, adatto a tutte le tecnologie perché non si può rimanere ancorati alla matita e al foglio di carta e le nostre materie sono la maggior parte tecnologiche, infatti nella scelta, nel bando c'è un piccolo test d'ingresso perché come puoi immaginare, essendo tutto gratuito, abbiamo una forte richiesta di iscrizione e il bando consente 25 studenti percorso. Questo numero chiuso, diciamo, è una necessità proprio perché deve essere tutto finanziato ma non solo il percorso formativo, anche tutte le opportunità di formazione presso le aziende durante il periodo delle ore, tipo visite aziendali, tipo presenze alle fiere, alle sfilate. Portiamo agli studenti delle fiere di settore, a Milano Unica, tipo allo studio Armani, li portiamo un po' in quelle realtà, oltre quella lavorativa, che servono per poi lavorare con competenza nel mondo della moda. C'è molto entusiasmo da parte vostra, molta passione, oltre ovviamente a una preparazione e quindi questo entusiasmo voi lo trasmettete anche ai vostri studenti. Chiederei al professor Sala, allora, come mettersi in contatto con voi? Ma noi abbiamo il nostro sito, che appunto è quello, lo vediamo nelle informazioni, dell'ITS Moda e ITS Moda Pescara e al momento siamo anche in trasloco come sede per cui non c'è ancora definita una sede fissa, ma comunque attraverso i canali web è possibile contattarci. Volevo aggiungere rispetto alla professionalità, insomma al piazzamento sul mondo del lavoro che siamo anche in contatto con aziende internazionali, gli stage formativi avvengono anche all'estero, siamo in contatto con aziende in Francia, in Spagna e noi, anche noi docenti, facciamo dei viaggi studio proprio per andare a sondare, andare a capire quali sono le aziende dove poter inserire i nostri studenti. Nel corso di studi c'è anche l'approfondimento delle lingue perché naturalmente è importante anche sempre rispetto al mondo della moda. Abbiamo due minuti, allora vorrei una breve battuta con Gianluca, Gianluca Piccone, breve battuta per te, puoi dire quello che vuoi, nel limite del possibile. Certo, posso dire quello che è stato il mio percorso all'interno dell'azienda, io ho fatto il modellista 4.0 come corso, all'interno dell'azienda mi sono trovato in un altro reparto che è quello di prototipia, assolutamente affine a quello che è stato il mio percorso di studi, anzi ha approfondito quelle che erano le materie un po' più tecniche, un po' più pratiche. Quindi ecco, posso ringraziare assolutamente l'ITS per questa opportunità e ringrazio l'ITS perché attualmente ho un impiego che mi dà grandissima soddisfazione dal punto di vista lavorativo. Altra docente, te lo auguro nel caso vorrei farlo, altra alunna, ex alunna, Agatha Bonavita, anche per te, di quello che vuoi per concludere questo reportage. Per me ovviamente l'ITS è stato veramente soddisfacente perché mi ha dato tanto, e poi in ambito lavorativo sono entrato in questa azienda dove appunto non che sapevo già fare perché ovviamente si deve ancora imparare, però ti lascia comunque qualcosa e ti permette di far vedere all'azienda che c'è voglia di imparare e quindi ti mette delle basi effettive poi nel mondo del lavoro appunto. Io anche nell'azienda sono nel reparto prototipia, però appunto ho visto anche nell'ambito modellistico del prodotto controllo qualità, un po' tutto diciamo, e quindi niente, è proprio una bella esperienza e appunto io sto continuando e speriamo di continuare in questo settore nell'azienda che è stata fantastica per me trovarla. Grazie, 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 in bocca al lupo a tutti, vive il lupo sempre diciamo noi. C'è il bando di selezione, mi raccomando professore se ricordiamo la scadenza. L'8 di ottobre ci si può collegare sul sito dell'ITS Moda Pescara e semplicemente compilando un form che è ben visibile nell'apertura del sito candidarsi. È completamente gratuita l'iscrizione come tutto il percorso formativo. Allora vorrei ringraziare la professoressa Chiara Di Bartolomeo, docente ITS Moda Pescara, nonché coordinatrice dell'orientamento, il professor Roberto Sala, docente ITS Moda Pescara, l'allievo, ex allievo corso modellista Gianluca Piccone e l'allievo corso Sartoria 4.0 Agata Bonavita. Naturalmente informatevi su queste opportunità per quanto riguarda l'ITS. Io vi ringrazio ancora una volta, avremo naturalmente tante altre occasioni per parlarne. L'augurio di un buon proseguimento ai nostri telespettatori e ancora grazie a tutti voi. Arrivederci. Grazie.